Musica Basta con l'abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti, quella che poteva sembrare una minaccia fine a se stessa per scoraggiare i maleducati, diventa realtà, con l'installazione delle telecamere in alcuni siti dove sono posizionati i cassonetti per conferire rifiuti. Secondo l'amministratore unico dell'SM, Francesco Rosettini, l'occhio della telecamera sarà un utile strumento per scovare chi non rispetta la legge. Nel dopo terremoto, infatti, si è registrato un aumento degli abbandoni selvaggi dovuti molto spesso allo svuotamento delle case per le ristrutturazioni. Prima del sisma, basta guardare i dati, si producevano infatti 280 tonnellate di rifiuti, ora si arriva sino a 2000 tonnellate. Da settembre poi, gli uomini dell'SM saranno operativi e potranno anche fare le multe, di ausilio dunque alla Polizia Municipale, in tal modo da rendere i controlli più capillari. Saranno aperti anche i sacchi lasciati nei cassonetti, saranno inviate ai cittadini buste di immondizia con codice a barre, che poi saranno aperti a campione. Per quanto riguarda invece i lavoratori, il Comune dell'Aquila sta predisponendo la delibera che autorizzerà il personale interinale chiesto dall'SM. Si tratta di 8 unità da impiegare per il trattamento delle macerie. La questione aveva scatenato molte polemiche politiche. Gli 8 però non graveranno sul contratto di servizio, ma rientrano nel piano economico dello smaltimento delle macerie, ha spiegato l'amministratore Rosettini. I 20 saranno compresi nel contratto di servizio, facendo delle economie e senza alcun onere aggiuntivo. Il personale si è reso necessario per l'SM, che ha avuto picchi di richieste di ferie, secondo quanto spiega Rosettini, in contemporanea di 34 dipendenti. Le ferie sono sacrosante e così si è dovuto ovviare con questa delibera. Una classifica del Censis analizza le università abruzzesi e secondo i dati relativi all'anno accademico in corso 2015-2016, gli Atenei dell'Aquila di Chieti-Pescara sprofondano sotto alla classifica dopo le università più grandi. Va meglio invece all'Università di Teramo, che si piazza in quarta posizione nella classifica dei piccoli Atenei, mentre per quanto riguarda la ricerca male per tutte le università abruzzesi. L'Ateneo dell'Aquila e Chieti-Pescara sono inserite nel Censis nella graduatoria delle grandi università, quelle riferite ad Atenei che contano tra i 20.000 e i 40.000 iscritti. Sul podio Perugia, Pavia e l'Università della Calabria. L'Ateneo dell'Aquila in questa classifica si colloca terzultimo, con 76,6 punti, mentre Chieti-Pescara penultima. Peggio di loro sono l'Università di Napoli. L'analisi si riferisce anche a strutture e servizi e analizzando i dati il punteggio più basso per l'Aquila è relativo alle strutture e servizi. Chiaramente l'Ateneo Aquilano conta ancora i danni relativi al terremoto, che ovviamente hanno portato ad una ricollocazione e dunque la parte logistica è senz'altro segnata e penalizzata da questa vicenda, anche se c'è da dire che l'Ateneo pian piano sta recuperando le sedie originarie. Per quanto riguarda invece l'internazionalizzazione, meglio l'Aquila rispetto all'adannunzio, anche se la distanza con altre università italiane è molto profonda ancora. Risultati più positivi invece arrivano per l'Ateneo di Teramo, che si piazza al quarto posto nella classifica dei piccoli Atenei, quelli cioè che non superano i 10.000 iscritti. Il Censys, nella sua analisi, ha dato un posto speciale poi alla ricerca scientifica. Su 50 università nell'area di ricerca delle scienze matematiche e informatiche, l'Aquila è tredicesima, Chieti-Pescara penultima. Nell'area delle scienze fisiche, su 41 università, l'Aquila è trentaquattresima, nelle scienze chimiche trentaduesima, terzultima nelle scienze biologiche e anche per la ricerca e scienze mediche male, anche Chieti-Pescara in questo campo. Interessante il dato nel cantiere più grande d'Europa. Nella ricerca nell'ambito dell'ingegneria civile e dell'architettura, l'Aquila è al diciassettesimo posto, su 41 facoltà per le materie umanistiche, al trentanovesimo posto. Le università nel loro complesso sono state giudicate in base a cinque parametri. I servizi, come per esempio le mense, i pasti, il numero di posti letto per gli iscritti da fuori regione, le borse e contributi, ovvero la spesa degli atenei e degli enti del diritto allo studio per interventi a favore degli studenti, le strutture, con punteggia assegnate in base ai posti disponibili nelle aule, nelle biblioteche e nei laboratori. Infine il web, con punteggia ai siti internet degli atenei, in base a 86 indicatori, dalla funzionalità ai servizi online, per esempio l'iscrizione e pagamento tasse, passando per l'accessibilità e la presenza di informazioni in lingua straniera. E poi l'internazionalizzazione, ovvero il numero degli iscritti stranieri, gli studenti che hanno trascorso un periodo all'estero per studio telecinio, spesa a favore della mobilità internazionale. Saldi partiti ufficialmente il 2 luglio in Abruzzo e nel resto d'Italia, fatto eccezione per la Sicilia, che ha iniziato il primo del mese. Una partenza un po' insordina però, secondo i dati diffusi da Confcommercio, anche se alcuni commercianti sono abbastanza soddisfatti di questo avvio, dopo una stagione definita a dir poco disastrosa. Come sta andando questo avvio di Saldi? L'avvio di Saldi sta andando decisamente bene, in quanto la stagione è andata malissimo, dovuta sia alla crisi economica e soprattutto in questa stagione al tempo che non ci è stato a favore, sicuramente. I saldi andranno a dare ossigeno soprattutto a chi vende abbigliamento, settore penalizzato fortemente dalla crisi. In provincia dell'Aquila, infatti, anche quest'anno il saldo è negativo, anche perché i piccoli negozi continuano a pagare cara la concorrenza dei grandi centri commerciali. La piega vera, soprattutto all'Aquila, è rappresentata ancora una volta dagli affitti, troppo cari. E centro storico inaccessibile, anche i locali in periferia hanno raggiunto a volte prezzi stratosferici. Gli unici settori che continuano a tirare sono alimentari, giocattoli e tecnologia. Sul resto le persone tendono a risparmiare sempre di più, magari aspettando l'offerta proprio ai saldi. La gente preferisce sempre acquistare con i saldi. Che tipo di sconti fate voi? Chiaramente la scontistica è varia. Partiamo comunque da un minimo di 20% per arrivare a un massimo del 50% di sconto. sulle fine serie di magazzino. La gente va sull'estivo oppure c'è chi preferisce comprare anche l'invernale, le rimanenze che vi sono rimaste in magazzino? Assolutamente tutti sull'estivo. Si compra il necessario e si compra al momento quello che serve. Quindi la crisi c'è, si sente? Si sente, si sente. A che ci vogliono far credere c'è ed è evidente che ci sia. Grazie a tutti.